Iiiiiiii Questo qui è un giuoco che vi mostro per amor di conoscenza e per elargizione di contenuti Lo sapete benissimo qual è il mio target Significa che non andrò a approfondire Anche perché è uno di quei giuocchi che non riesco a globalizzare Intanto è un accesso anticipato, è una alfa Quindi tutto quello che vedrete non è assolutamente perfetto Devono ancora inserire i contenuti, ci sarà un futuro per questo giuoco penso Nei miei confronti invece un ambiente così esteso Qua si parla di 400 km2 di roba E un open world di quelli estesissimi Un ambiente desertico Questo è il nostro personaggio che abbiamo creato all'inizio Come potete vedere Tino Chiamato Tino Un transessuale Un po' mascolino Diciamo che ha dei problemi di proporzioni Ma quelli potete creare il vostro personaggio a vostro piacimento Con una serie smisurata di robe Adesso io oltre questa zona non riesco ad andare Ma siamo all'interno di qualche tipo di città Come vedete la mappa ha ancora dei problemi da gestire I movimenti e quant'altro Ci sono tantissime statistiche di salute Perfino lo stomaco Tutte le braccia, le gambe Il livello di salute generico Statistiche Ingombranza Tantissime di quelle cose Questo è il nostro inventario Un po' di health pack Qualcosina del genere Ora io navigo in questo mondo Alla ricerca di qualcuno Qualche trader Di missioni In realtà Fino adesso ho trovato solo Un unico individuo Che è esattamente qua situato Anche navigare nella mappa È alquanto ostico Che mi vuole vendere delle robe Che però io No, stai sereno Vogliamo subito notare le proporzioni E cammina con queste belle Bei sandali legnosi Vedete È un pochettino più alto Della norma E stanno così Belli impalati Non possiamo entrare All'interno degli edifici Insomma Io Questo gioco Capisco che appunto C'è un alfa Quindi Però a livello attuale Non ho nessun Non dà nessuno stimolo Per proseguirlo O per approfondirlo Quindi Io vi do questo tipo di stimolazione Sapete che è a disposizione Dell'umanità Se volete Se siete interessati Ad approfondirlo Datemi conoscenza Perché io Non posso fare oltre Cioè Ci sono certi giochi Che A condizioni personali Evidentemente Perché è una cosa Assolutamente personale Che Generano All'interno di noi Dei sentimenti negativi Ed esattamente Quello che fa questo gioco Nei miei confronti E questo è esattamente Il feedback Feedback di cui parlo sempre Quindi se voi ricevete Invece Una stimolazione positiva E tutto questo Apparentemente Perché Poi bisogna approfondire Vi ha stimolato positivamente Beh sappiate Dove trovarlo Lo sapete Quindi saluti Passiamo oltre Vi giuro che sto facendo Davvero fatica A vedere questa roba Su schermo Esattamente Saluti Saluti